carissimi amici sono mesi ormai che continuiamo a ripetere queste parole questa situazione non farà altro che demolire e portare sull'astrico il nostro tessuto produttivo ed economico oggi ci viene confermato da conf commercio questi sono i primi dati che arrivano che vanno ecco a fare una stima dell'anno appena passato di questo brutto 2020 il tasso di mortalità delle aziende rispetto al 2019 rispetto all'anno prima risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio si va dal 6,6 per cento all'11,1 per cento addirittura è triplicato per i servizi di mercato allora analizziamo i dati e poi vi faccio una breve mia riflessione in quanto qui non viene fatta l'effetto combinato qui ovviamente si dà tutta la colpa all'emergenza sanitaria e del crollo dei consumi quindi con l'effetto combinato del covid del crollo dei consumi del 10,8 per cento pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019 ha spinto alla chiusura oltre 390 mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato del 2020 fenomeno non compensato dalle 85 mila nuove aperture prima parentesi sulle nuove aperture qui non viene specificato ma chi sono queste 85 mila aperture a parte il fatto che non sono sufficienti a compensare le chiusure quindi sostanzialmente siamo in debito verso le attività che sono state chiuse non sono state compensate ma chi sono queste 85 mila nuove aperture di chi sono questa la stima sulla nata immortalità delle imprese del commercio non alimentare dell'ingrosso dei servizi dell'ufficio studi di conf commercio secondo cui pertanto la riduzione del tessuto produttivo nei settori considerati ammonterebbe a quasi 305 mila imprese quindi parliamo del meno 11,3 per cento di queste 240 mila esclusivamente a causa della pandemia lo dicono loro in altre parole sottolinea il rapporto l'emergenza sanitaria con tutte le conseguenze che ne sono derivate restrizioni e chiusure obbligatorie incluse ha acuito drasticamente il tasso di mortalità delle imprese delle imprese che rispetto a 2019 risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio come abbiamo detto il tasso dell'11,1 per cento e addirittura più che triplicato per i servizi di mercato dal 5,7 per cento al 17,3 per cento delle 240 mila imprese sparite dal mercato a causa della pandemia insistono insistono e qui che farò la mia riflessione amici prosegue la nota 225 mila si perdono per un eccesso di mortalità e 15 mila per un deficit di natalità ok una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra i servizi di mercato che si riducono del 13,8 per cento rispetto all'anno precedente 2019 mentre nel commercio rimane più contenuta ma comunque elevata è pari all'8,3 per cento tra i settori più colpiti vediamo nell'ambito del commercio abbiamo abbigliamento e calzature al primo posto meno 17,1 per cento ambulanti e distributori ambulanti meno 11,8 per cento distributori di carburante meno 10,1 per cento mentre nei servizi di mercato le maggiori perdite di imprese si registrano per agenzie di viaggio pensate meno 21,7 per cento cioè sono destinate all'estinzione completamente bar e ristoranti meno 14,4 per cento e trasporti meno 14,2 per cento poi c'è tutta la filiera del tempo libero tra attività artistica esportiva e intrattenimento fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la sparizione di un'impresa su tre quindi si parla di oltre il 33 per cento sono dei dati davvero incredibili amici sono dei dati assolutamente incredibili alla perdita di imprese va poi aggiunta anche quella relativa ai lavoratori autonomi ovvero quei soggetti titolari di partita iva operanti senza alcun tipo di organizzazione societaria qui conf commercio stima la chiusura per circa 200 mila professionisti tra operanti di attività professionali scientifiche tecniche amministrazione e servizi attività artistiche di intrattenimento e divertimento e altro insomma tutte le partite iva italiane il 2020 si chiude quindi con un bilancio drammatico per il nostro sistema produttivo colpito dal coviz vabbè poi c'è il commento di carlo sangalli ma non ci interessa perché vi faccio io un commento amico mio amici miei allora qual è la questione è molto semplice amici tutti i giornaloni perdono diciamo circoscrivono tutta questa situazione attribuendo la colpa all'emergenza sanitaria qui ci terrei a precisare questo aspetto qui la colpa non è dell'emergenza sanitaria qui la colpa è del governo in primis che ha adottato tutta una serie di restrizioni ok e questo è il vero problema se tu mi obblighi a chiudere io non posso lavorare non posso fatturare non posso sopravvivere questo è il problema reale sommiamoci anche il fatto che oltre alle chiusure oltre all'imposizione della chiusura molti di queste attività non sono nemmeno state supportate economicamente parlando una delle proteste più forti che abbiamo avuto in questi mesi da parte dei ristoratori delle partite ive degli autonomi è stata proprio questa lo slogan era tu mi chiudi tu mi paghi non c'è più verità di questa amici e invece no non solo abbiamo obbligato hanno obbligato le chiusure a ristoratori partite ive tutto il tessuto economico italiano ma oltre a questo non hanno nemmeno dato quei sussidi per poter rimanere a galla quindi la conseguenza è naturale è normale che poi ci siano 390 mila aziende che chiudono amici non so voi come la pensiate questo era il bilancio del 2020 dal mio punto di vista se la situazione non accennerà a migliorare i dati previsti per l'anno prossimo saranno addirittura peggiori ultima nota importante che ci tengo a precisare un economista ci ho fatto un video tempo fa un economista diceva che la ricchezza non sparisce mai la ricchezza viene spostata quindi la ricchezza si sposta da determinate mani in altre mani che cosa vuol dire vuol dire che se in italia tantissime aziende stanno chiudendo in svariati settori questi soldi da qualche parte vanno e indovinate un po dove vanno esatto amici vanno online vanno nel mercato online e chi è il colosso per antonomasia online bravissimi e amazon fate due più due e capito un attimino a chi è funzionale tutta questa situazione tutte queste chiusure imposte di lockdown e sapete perché vi dico che il 2021 non sarà molto migliore del 2020 perché stando a quelli che sono i presupposti e a quelle che sono le informazioni che vengono già date come ho detto nel video precedente speranza già annunciato tranquillamente che avremo a che fare con questa emergenza ancora per diversi mesi ci sono anche altre minacce da questo punto di vista che si riferiscono ecco al lockdown non si esclude più un lockdown a gennaio anzi è assolutamente probabile che arrivi un ulteriore chiusura quindi non è sufficiente questa che c'è stata adesso per contenere i contagi non sono mai sufficienti tutte le restrizioni che vengono prese perché gli italiani come sapete sono ecco un popolo di irresponsabili ok la colpa ovviamente sempre degli italiani che non riescono a stare a casa non riescono ecco a rinunciare alla propria vita e quindi ecco di conseguenza poi loro sono costretti a rinchiuderci nuovamente dentro casa